Carabinieri e vigili del fuoco su incarico della procura della Repubblica di Avellino questa mattina sono tornati a Prata in cerca del corpo di Domenico Manzo o almeno di qualche traccia o indizio. Le operazioni sulla base di nuovi elementi si sono sempre concentrate nei pressi della stazione dove il muratore 69enne fu avvistato l'ultima volta nel gennaio del 2021. La storia ormai nota la sera dell'8 gennaio mentre in casa era in corso la festa di compleanno della Fia Romina Domenico per tutti i mimì uscì di casa senza farvi più ritorno. Le indagini inizialmente avevano seguito la pista dell'allontanamento volontario ma da qualche mese hanno preso corpo altre ipotesi come l'omicidio e l'occultamento di cadavere. Al momento gli indagati sono quattro a vario titolo per false dichiarazioni al PM, favoreggiamento e sequestro di persona. Tra loro c'è la figlia di Mimì Romina che da subito si è detta estranea ai fatti. Tutto ruota intorno alla festa caratterizzata da litigi e dal consumo di droga. La sensazione è che gli inquirenti siano vicini ad una svolta ma fino ad ora le ricerche hanno dato esito negativo. Ci sono tanti pensieri e purtroppo a fare nomi non si possono fare. Secondo me mio fratello ci aveva un appuntamento al bio dell'estazione. è la cosa più semplice. Se mio fratello è stato ucciso, è successo quello che è successo, io non penso che fosse qualche traccia. qualche traccia. A livello di telefonino, a livello di portafoglio, a livello di documento. Secondo me ci sta qualcuno che sa e potrebbe dare la svolta a questo caso e non parlare. Ma qualcuno ci deve essere per forza. Non penso mai che mio fratello sia suicidato. Non c'avevo proprio motivo. A me non mi piace di parlare molto. Allora queste persone, perché il fatto è stato compiuto. Fateci soltanto la carità, perché adesso si parla di carità. Dateci un indizio per far trovare il colpo. E restante, tenetevi ancora sopra la pancia.